Ben ritrovati cari amici di Macro News, alla nostra rubrica politica, continuiamo a parlare di elezioni amministrative a Sessaurunca. Siamo oggi in compagnia di un altro candidato a sindaco, Lorenzo Diorio. Buongiorno Lorenzo. Grazie Matilde per avermi invitato. Grazie a lei per essere qui con noi. Entriamo subito nel vivo della nostra piacevole chiacchierata, perché sono certa che sarà veramente una chiacchierata molto piacevole. Lei scende in campo per la prima volta in qualità di candidato a sindaco, anche se di fatto fa politica da una vita e scende in campo in una coalizione civica, come anche i suoi competitors, in cui però sono presenti sia forze di centrodestra che una parte del Partito Democratico. Dico bene? Assolutamente sì. Ecco, però questa coalizione da qualche suo avversario è stata definita una sorta di accozzaia politica. Che cosa vogliamo rispondere? Io agli avversari politici non rispondo. Io rispondo all'elettorato, ai cittadini. Dico che questa è una coalizione che si è formata vicino alla mia persona perché ha sposato un progetto politico. La coalizione prima ha fatto il progetto politico, prima ha fatto un progetto del territorio e poi ha individuato la mia persona per rappresentare questo progetto politico e per farlo rinascere sul territorio il territorio Aurungo. Non è una cozzaglia, lo dimostrerà il tempo, lo dimostreranno i fatti, anzi questa è una coalizione del fare, non è una coalizione dell'inciucio e né dei viti, ma per il territorio tutto, il territorio Aurungo. Quindi lei è stata vista come una sorta di sintesi, potremmo dire, di questo progetto. Cioè mentre in molte realtà spesso nasce prima la figura del candidato e poi arriva il progetto, nel vostro caso nasce prima il progetto e lei è stata vista come la sintesi di questo progetto, al di là dei vari schieramenti politici. Questo mi sembra di capire. La mia non è stata un'autocandidatura, anzi è stato tutto l'opposto. Io non mi sono autoproposto. Tutto pensavo, tranne quella là, di fare un'esperienza del genere. Io generalmente sono stato sempre vicino agli altri, sempre. Spesso è stato visto anche come il deus ex machina di alcune realtà amministrative. in senso positivo ovviamente. Io sono stato un umile collaboratore di tante amministrazioni comunali, diverse, sia a livello elettorale che a livello amministrativo. Oggi ho l'onore di guidare questo progetto politico, avvicinato non solo dalle forze politiche, ma bensì da tante persone che sto parlando di associazioni, di piccoli imprenditori, di insegnanti, di medici, cioè della parte sana del territorio aurungo. E questa è stata la forza, perché io mi sento forte di rappresentare una coalizione che non sono solo forze politiche, ma anche da queste persone. E tutti quanti insieme porteremo avanti questo progetto politico che è la rinascita del popolo aurungo. Allora, continuiamo con le domande un po' più spigolose, le voglio dare la possibilità di rispondere comunque ai suoi avversari e poi entreremo nel vivo anche del programma elettorale. Silvio Sasso, proprio nel corso dell'intervista che mi ha rilasciato qualche settimana fa, lo ha definito un uomo il cui mestiere dipende dalla politica. Che cosa vogliamo rispondere? Io ovviamente, come le dicevo prima, non rispondo ai miei avversari politici. Però posso dire che una cosa è certa, che ognuno di noi ha una storia, ha la storia privata per il ruolo che ha svolto nella sua vita privata. Io ho creato aziende, ho creato aziende per almeno 200 posti di lavoro nella mia attività privata e la mia storia privata. E poi ho fatto l'amministratore in maniera marginale perché io non ho fatto mai il sindaco. Quindi la storia è l'unica cosa che non si può cancellare. Vedete la mia storia, vedete quelle degli altri, cosa hanno realizzato loro, cosa ho realizzato io nella mia vita. E questa è la prima cosa, che quando uno si candida, si candida e quindi non si autocandida, è quello là che serve per dare garanzia per il futuro. E io mi sono candidato pure perché ho una storia, la mia storia personale, che ha creato qualcosa. E adesso lo voglio fare pure per la mia comunità, per il futuro. Allora, nel corso dell'apertura della sua campagna elettorale, lei ha dichiarato di voler creare una base logistica agroalimentare tra Carano e Sessauronca. Perché lei crede molto proprio nella filiera alimentare, economia, turismo, quelle che sono poi di fatto le risorse del nostro territorio. Ma in quella zona potrebbe nascere un impianto di compostaggio, rispetto al quale lei, già qualche tempo fa, ha manifestato comunque un dissenso attraverso un comunicato stampa. Allora, io volevo capire. I suoi sponsor però, mi riferisco agli onorevoli regionali, sono proprio i rappresentanti di quella regione campania che di fatto ha dato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di compostaggio tra Carano e Sessauronca. Non è secondo lei una sorta di controsenso? Assolutamente no. Poi la filiera e la base logistica che intendo realizzare nel territorio, semmai ne parliamo dopo, perché è uno dei punti fondamentali del nostro programma elettorale. Per quanto riguarda questo, in particolare il sito che si voleva fare, perché si voleva fare, non lo facciamo fare. Non esiste. Quando l'amministrazione comunale dici di no e no, non ci sarà né filiera regionale, nazionale o chiunque, non si realizzera la stessa, perché l'amministrazione di Orio non permetterà a nessuno di realizzare sul mio territorio, sul nostro territorio, uno scempio del genere. Anche perché, come diceva lei prima, noi siamo a vocazione turistico e agricola. Certamente non sarà questa opera che vogliono realizzare lì a Carano, noi lo permetteremo. Per quanto riguarda sia la regione, che io ho interlocuito pure con loro in questa cosa, loro non permetteranno questa cosa, assolutamente no. Sono stati gli uffici regionali che stavano attivando quella cosa. Non è un atto di programmazione della regione Campania, assolutamente no. Sia Oliviero che Zannini, sia Grimaldi, ovviamente sono contrari e sposeranno qualsiasi causa del territorio aurungo e dell'amministrazione comunale, che loro sono l'amministrazione anche comunale di Sessa Aurungo. Sono parte integrante, non è una filiera tanto per, ma loro saranno parte integrante della filiera con il comune di Sessa Aurungo e con la nostra amministrazione comunale. Quindi non consentiremo a niente e a nessuno una cosa del genere. Mi fa piacere che dice questo, così da tranquillizzare anche i lettori di Macronews e gli elettori del territorio aurungo, ma anche di tutto il comprensorio. Assolutamente sì. Quindi attraverso il suo collegamento. Ma già gli uffici comunali hanno bloccato questa cosa. Già gli uffici comunali hanno mandato una pecca alla regione che hanno sospeso l'Italia che era stata avviata il 4 di Augusto. Ma queste terre non è nata a caso. Leggetevi le carte. Può dire qualcosa in più? Assolutamente. Mi lascia questo dubbio? Io non parlo mai degli altri, io parlo sempre della storia. La storia è l'unica cosa che non si cancella. Ma queste carte dove dobbiamo andarle a leggere? Al comune di Sessa Aurunga? Alla regione? Ci dia un indizio magari? Sia alla regione che al comune. Va bene, va bene. Approfondiremo l'argomento sicuramente magari anche all'indomani della campagna elettorale. Lei ci teneva a parlare appunto della filiera anche istituzionale, no? Che vuole in qualche modo concretizzare e dei progetti prioritari previsti nel suo programma elettorale. So che lei ci tiene particolarmente ad elencarli. Io ho il mio obiettivo, dalla nostra amministrazione comunale, del nostro programma elettorale, è quello là di creare occupazione. Creare occupazione. Perché noi eravamo il settimo comune della provincia di Caserta. Eravamo un comune di 25 mila abitanti. Questo lo so perché ho iniziato a fare l'amministratore comunale nel 1997 e allora avevamo 25 mila abitanti. In questi giorni, parlando con gli uffici comunali, perché noi, io sto già parlando con gli uffici comunali e per questo già li ringrazio che loro stanno già collaborando in maniera attiva, fattiva, si stanno già rimboccando sulle maniche. E ho saputo che siamo arrivati a 20 mila abitanti. Questo decremento demografico è dovuto soprattutto alla mancanza di occupazione. Cioè i nostri giovani, i figli nostri, sono andati via, stanno andando via. E allora un'amministrazione seria, seria, quella del fare, non quella degli ingiuci o dei pettegolezzi. Quello là che dice domani lo facciamo domani. No, noi dobbiamo creare occupazione. E l'occupazione si crea portando fuori le nostre risorse naturali, che sono l'agricoltura e il turismo. Per quanto riguarda l'agricoltura, già diversi amici, amici che vogliono investire sul territorio di Aurunco, per farlo decollare, vogliono realizzare sul nostro territorio una base logistica agroalimentare. Che questa qua servirà non solo a dare occupazione con la base logistica agroalimentare, e stiamo parlando intorno alle 70-80 persone da subito, ma servirà soprattutto a farci sviluppare quel filone, quel settore dell'agricoltura, che è uno dei nostri punti di forza del territorio. E vicino alla base logistica agroalimentare ripiglierò, rivaluterò le caseformenti. Metteremo insieme gli imprenditori del territorio che sono sparsi sul territorio come piccoli imprenditori, li consorzieremo e faremo il polo tecnologico Aurunco. Io già stavo parlando con il commissario Firmanò, sto parlando già con le banche e faremo un consorzio dove il comune sarà la parte fondamentale, ma insieme alle banche e insieme agli imprenditori. E anche quella parte rivaluteremo e daremo occupazione. E poi è chiaro che la parte importante sarà il comune, sarà l'azienda comune. E anche lì faremo occupazione, perché il comune di Sessa, e sto parlando sempre della storia, era un comune di intorno alle 200 persone che lavoravano al comune. Oggi siamo intorno alle 100 persone e quindi dobbiamo ripigliare occupazione anche attraverso il comune. E quindi io farò i concorsi per assumere negli arco di 5 anni, perché la pianta organica ce lo consente, almeno altre 70 persone. E allora così, voglio dire, bloccheremo questa emorragia di giovani e faremo almeno complessivamente tra il pubblico e il privato almeno 250 assunzioni. È inutile dire che ripiglierò anche il rapporto con le imprese locali. Quando io ho fatto l'assessore con Tommasino, lavoravo, Gino Tommasino, mio amico sindaco di qualche amministrazione fa, lavoravano 40 imprese locali, 40. Oggi ho saputo che ne lavorano tre imprese locali, perché l'amministrazione non produce atti. Allora un'amministrazione che vuole lavorare, che vuole dare lavoro, non è quella di fare i comunicati stampa, ma quella che deve produrre atti amministrativi. E gli atti amministrativi che creano lavoro e quindi le piccole imprese avranno modo di lavorare. E quindi ci saranno operai, ci saranno i magazzini etni che lavoreranno, cioè una filiera di creare lavoro. E l'amministrazione deve andare avanti, deve essere la prima a creare lavoro. Lei sta parlando molto di lavoro, di occupazione e sicuramente… Ah poi volevo… è chiaro? Mi scusi. Sì. Un'altra cosa importante è che la filiera che lei parlava prima, la filiera va utilizzata per il territorio, va utilizzata per il territorio. Perché quando la Regione, il Governo leggifera, non è che leggifera a caso, leggifera per far pigliare opportunità sul territorio. Io una delle opportunità che piglierò, che coinvolgerò, sarà per gli operai ex formente ex morteo. Lì faremo come amministrazione comunale, come amministrazione dei progetti, dei programmi per utilizzare questi nostri concittadini per accompagnarli pure alla pensione. Ma non solo per accompagnarli, ma per dare ai servizi pubblici locali dei progetti per migliorare la qualità della vita. E li utilizzeremo attraverso la Regione e il Governo. Tanto è vero che sto già parlando con gli organi regionali e con gli organi governativi per fare dei progetti ad hoc. E tutte queste cose che sto dicendo non ne ha niente con il bilancio comunale. Non c'entra il bilancio comunale. E solo sono atti amministrativi che un comune serio, un'amministrazione seria deve portare avanti. Lei, come stavo dicendo prima, sta toccando un nervo scoperto della nostra realtà, che è quello appunto della piaga occupazionale. Bellissime le sue parole, sicuramente convincenti, però non ha il timore di alimentare troppo delle speranze tra i giovani? Lei si sente in coscienza di poter poi attuare tutto quello che sta dicendo? Chi mi conosce sa che io non faccio promesse. Io quando piglio un impegno, è un impegno che ho la presunzione di mantenere. Io sto in campagna elettorale. E qualcuno potrebbe dirle questo? Infatti non è una promessa elettorale, è un impegno. E chi mi conosce sa, sembra la storia. A me non ci sarà mai un cittadino che potrà dire, mi ha detto una cosa e non l'ha fatta. Io generalmente, per il mio costume, per il mio carattere e perché sono figlio di contadino, generalmente mi impegno al di sotto di quello che posso realmente fare. E se queste cose che stiamo dicendo insieme stasera vuol dire che le realizzeremo, non ci saranno ostacoli che ci possono bloccare. Non ce ne saranno. No. Bene, allora, ritorno a fare l'antipatica. Cosa pensa dei suoi avversari? Non mi dica che però non parla dei suoi avversari. Non ne dobbiamo parlare male, ne può anche parlare bene. No, assolutamente no. Un'opinione, il fatto di trovarsi di fronte Silvio Sasso, Antonio Fusco, il suo piano politico ovviamente non personale. No, no. Ognuno, ognuno, l'ho detto prima, mi ripeto, ha una sua storia. Io ho la mia storia e loro avranno la loro storia. Voglio dire, io voglio dire ai miei cittadini, ai miei cittadini, quello che io realmente voglio fare, quello che voglio fare per loro. A me non mi è mai interessato degli altri, a me mi interessa il mio territorio, i cittadini. E i cittadini devono sapere qual è il mio progetto politico, ma non solo il mio progetto, il progetto politico della coalizione che mi sostiene. E questo progetto politico è nato dal basso, dalla base, dal cittadino. Quel programma elettorale, quel programma elettorale, per me, per noi, per la nostra coalizione, sarà la nostra Bibbia. Noi lavoreremo, lì già c'è stato un confronto, quello è venuto fuori attraverso una campagna d'ascolto e quindi non è che dopo liticheremo perché l'accusa che mi si fa è che con me ci sta la destra, ci sta il centro e ci sta la sinistra. No, lì con me ci sta il progetto Aurunco che servirà a far rinascere questo territorio. Quindi ritiene che riuscirà ad amministrare serenamente per cinque anni, anche con una coalizione così… Assolutamente, 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 perché come le dicevo prima, il programma che è stato realizzato, e non è il programma che generalmente si fa perché è un allegato agli atti della coalizione quando si presentano di vista. No, è stato un programma elettorale che è nato dal confronto di tutta la coalizione, sottoscritto e che è venuto dal basso. Lì ci sta il contributo delle associazioni, degli imprenditori, dei commercianti, ci sta il contributo di tutti. Quella è la sintesi del territorio Aurunco. E noi lavoreremo quotidiano. Chiunque consigliere comunale verrà eletto, qualsiasi assessore che sarà nominato, qualsiasi consulente che io nominerò, sappiamo quello che dobbiamo fare. Noi non siamo un'amministrazione che non sa che la mattina cosa deve fare. Noi abbiamo un programma a medio scadenza, cioè quello che dobbiamo fare domani, è a lunga scadenza. Abbiamo stabilito pure i tempi, c'è un programma completo, che ognuno sa quello che deve fare. Io stravolgo un po' la scaletta delle domande, perché mi è sorta spontanea in questo momento. Ce l'ho di fronte e ne approfitto per fargliela perché gliela volevo fare già da un po'. L'accordo che lei ha sancito con l'onorevole Gennaro Oliviero si vocifera che sia stato siglato in qualche modo già un anno fa, all'epoca delle regionali e che questo poi ha portato anche alla sfiducia dell'amministrazione Sasso, quindi alla fine anticipata del mandato amministrativo. Che cosa c'è di vero in questo? Io non lo so, posso dire la verità vera. E quella vogliamo sapere. La verità vera è che quando è stato uno dei primi, una delle prime persone, dei primi che mi ha chiesto di fare questa esperienza. Ma non è, e sto parlando appena dopo le vacanze natalizie, quindi non c'entra proprio niente. Quindi è stato successivamente. È stato appena dopo le vacanze natalizie. E io gli dissi pure di no. Perché? Però, è perché voglio dire... Non era nei suoi pensieri al momento. No, non ci stavo proprio pensando io a questa cosa. E poi conoscete pure la mia vita privata o qualche problema fisico, quindi non pensavo veramente di fare questa cosa. Quindi gli dissi pure di no. Però la cosa che mi fece incominciare a riflettere è quando l'amico Gennaro non mi disse che io dovevo fare il sindaco. No, non me lo disse questo. Mi disse che questa volta dovevamo fare qualcosa per il territorio. E questa frase mi incominciò a far riflettere. Quindi non era un fatto di Lorenzo che doveva avere la fascia di ricolore. No, che insieme questa volta dovevamo fare qualcosa per il territorio perché questa volta era la volta buona perché con noi abbiamo la fortuna di avere, diciamo, rappresentato la regione Campania nel nostro territorio. È uno degli impegni che ha pigliato Oliviero, non con me, ma con il territorio con la coalizione che lui sarà a canto vicino a sostenere le iniziative del territorio. E prima non lo poteva fare Consiglio Sassi? No, non lo so. Io non parlo degli altri. Te l'ho detto io. A me non mi interessa Sirio Sassi. Va bene. Allora arriviamo alle battute finali di questa piacevole chiacchierata. l'avevo detto che sarebbe stato molto gradevole. Allora facciamo, vogliamo spiegare agli elettori perché dovrebbero votare lei in questa competizione elettorale e la sua squadra ovviamente. Magari facciamo anche un appello finale. Perché votare me? L'ho stata votando, io agli elettori posso dire solo una cosa. Posso dire che chi vota Lorenzo, e mi chiamerete sempre Lorenzo, chi vota Lorenzo non sta votando, sta votando per il territorio, sta votando per un progetto, sta votando a delle persone. La mia squadra, oggi per legge, io non lo sapevo per la verità, si debbano allegare agli atti del comune i curricoli di tutti i candidati. E anche giusto. E la cosa più bella è anche questa. Io quando ho visto le liste che mi sostengono, andate a vedere i curricoli di ogni candidato, andatele a vedere. Chi si è candidato, diciamo, nella squadra di Lorenzo Diori e chi si è candidato nelle altre coalizioni. Analizzate, vedete chi sono, la loro storia. Io dico lì sta la differenza. Con me ci sono bellissime persone, donne che veramente ti danno l'entusiasmo, uomini altrettanto determinati, professionisti che hanno già dato tanto nella loro vita privata. Adesso insieme a me vogliono dare qualcosa per il loro, del nostro territorio. E allora l'appello che faccio agli elettori. Io non sono un uomo di cultura come tutti quanti, forse hanno proprio qualche libro, l'ho letto pure io. E uno degli autori è Benedetto Croce, che in una frase dice in politica la vera onestà è la capacità di fare le cose. E queste cose le faremo insieme per il nostro territorio e con una persona come me che viene da una piccola realtà, figlio di un contadino, che sa cosa significa lavorare, sa cosa significano i sacrifici, fidatevi di me, fidatevi della mia storia, fidatevi della coalizione che sta vicino a me, degli uomini e delle donne. Grazie e ci rivedremo per festeggiare tutti quanti insieme il 5 di ottobre, perché noi vinciamo e perché vincerà il territorio a Orung. Grazie, grazie Lorenzo Di Orio per questa bella intervista, ci vediamo sicuramente presto e in bocca al lupo per la campagna elettorale. Saluto tutti gli amici di Macro News al prossimo appuntamento con la nostra rubrica politica. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.